buongiorno sarò lunghetto forse intanto questo lo butto su che mi tira su se qualcun altro scherzando non scherzando si permette di fare insinuazioni perché faccio vedere la marmellata che mi dice che faccio pubblicità occulta o palese in cazzo in cazzo magari no no io la faccio vedere per un motivo semplice la migliore secondo me ed è perfetta per chi fa sport perché non contiene molto zucchero contiene meno zucchero delle altre e quindi voilà mettiamola qua dove la mettiamo qua dai sì sì sarò lungo un po incacchiato perché ieri ho visto per televisione una trasmissione che si chiama l'altra italia condotto da una ex iena che si chiama monteleone a un certo punto è comparso marco mancini detto tortellino in brodo con la panna non lo so che nel 2005 rimase coinvolto in uno scandalo del sismi di cui lui faceva parte come responsabile dell'antiterrorismo tutti ricordiamo le sue foto con la sgrena mentre scene scende dall'aereo con tutta una sgrena in uno scandalo dove si parlava anche di dossier di dossier illegali c'era un grande archivio tenuto da tal pio pompa in via veneto a roma furono coinvolti lui giuliano fu un processo giuliano tavaroli che era un ex carabiniere come lui ed era il capo della sala ascolto della team addirittura sfiorato il campo del sismi numero uno niccolò pollari erano coinvolti due fratelli che avevano un'agenzia investigativa a firenze c'erano i conti a londra c'erano tanti soldi che che giravano la gestione dei soldi dei sequestri i soldi usati per la per la liberazione di giuliana sgrena chi pagò quanti ne arrivarono insomma fu uno scandalo io ho scrissi persino un libro che si intitolava pronto chi spia dalla telecom all'archivio z perché c'era questo gigantesco archivio si 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 parlò persino di una cosa che si chiamava centrale centauro con la quale veniva riprodotta la voce delle persone e quindi si creavano dei conflitti perché questo questo apparecchio telefonava a delle a delle persone con la voce di qualcun altro e quindi succedevano dei pasticci anche a livello politico insomma questo era l'ambito e queste erano un pochettino nei contorni della vicenda che coinvolse in pieno marco mancini e venivano dossierati i venivano dossierati i personaggi venivano dossierati i calciatori imprenditori e i giornalisti i giornalisti mi risulta che fui dossierato anch'io attraverso notizie raccolte nei miei confronti anche fornite da miei colleghi che io credevo amici e c'erano queste cartelle con i nomi e cognomi dei giornalisti dentro che c'erano i più affidabili meno affidabili più servizievoli più autonomi io penso che fossi tra quelli più autonomi avevo fatto tutta la vicenda delle delle torture degli stupri in somalia fui minacciato anche da apparati militari di morte fui si introdussero in casa mia mi pedinavano mi pedinavano qua mi pedinavano a palermo se ne accorse persino la mia compagna che era che la persona più ingenua del mondo si accorse una mattina che era pedinata perché loro ti pedinavano in modo tale che tu te ne accorgessi che venivi pedinato così ti destabilizzavi ecco non ci sono riusciti a destabilizzarmi fino in fondo sono andato dritto sempre per la mia strada però quando io ho visto marco mancini tutto incravattato intervistato da monteleone che pontificava contro i dossier contro lo scandalo di dossier di adesso striano i conti correnti in banco e doma porca vacca ma perché devo pagare il canone della rai ma perché devo pagare cani della rai un dossieratore che condanna i dossier fatti da altri ogni periodo ogni periodo ogni tot anni che i servizi segreti vengono coinvolti nello scandalo dei dossier si fa i sid i sismi adesso l'aise e l'aisi e perché così poi dopo vengono riformati servizi segreti fa carriera qualcun altro e questo scandalo poi di di adesso secondo me poi porterà anche ai soldi intanto lì ci hanno ci rimesso la pelle delle persone per esempio giulio regeni ci ha rimesso la pelle ecco perché mentre c'era nei contrasti sul su un giro colossale di di milioni di euro che vedeva coinvolti una settantina di funzionari dei servizi questo poveretto era in egitto abbandonato e poi fu sequestrato e ammazzato dai dei servizi segreti egiziani su mandato dei servizi segreti inglesi a quanto mi risulta ma vedere vedere marco mancini come fosse come fosse un come dire un santo che pontificava sui diritti dei cittadini e della privacy dei cittadini mi è venuto veramente un po da ridere un po mi sono incazzato e la conclusione e mentre mentre andava in onda questa questa intervista interessante per certi versi casualmente una persona con la quale sto cominciando a fare un lavoro mi mandava chat mi mandava chat che facevano vedere non so mi scriveva facendo mi faceva vedere le chat tra cecilia marogna e tavaroli insomma quel sostanzialmente quello che mi stava scrivendo questa persona era una vittima di quello che combinano i servizi segreti del vaticano e quindi alla fine della serata prima di andare a dormire ho detto ma io ma io mi sono fatto questa convinzione che se abolissero i servizi segreti se abolissero il vaticano forse ci sarebbe la pace nel mondo buona giornata buona giornata